Grazie all'invito della EA ho potuto provare la stagione 16 di Apex Legends in arrivo il 14 febbraio in anteprima mondiale e vi ho già parlato in verità di tutte le novità principali all'interno di un altro video. Quindi per prima cosa se non l'avete visto vi consiglio di recuperare quello. C'è una cosa però in particolare di cui non vi ho potuto parlare all'interno di quel video che appunto è l'argomento del video di oggi. Tutti i buff e i nerf subiti nel dettaglio dalle varie leggende in questa stagione. O in termini più semplici come alcuni personaggi verranno potenziati e altri distrutti. Inoltre in questo video vi aggiungerò anche un paio di informazioni prese da un'intervista fatta al game director di Apex Legends negli scorsi giorni e attenzione ad una notizia in particolare. E infine qualche risposta mia alle domande che voi mi avete fatto su Instagram sempre per quanto riguarda la nuova stagione di Apex. E come ciliegina sulla torta è anche appena uscito il trailer gameplay della stagione 16 sul canale YouTube ufficiale di Apex quindi a fine video vi farò anche vedere qualcosina di preso da questo trailer. In particolare si sono viste delle skin sia del battle pass sia del nuovo evento collezione, il nemesis in azione, alcuni dei perk delle classi. Come l'altra volta mi dispiace è un video tosto pieno di informazioni ma volevo farlo il più completo possibile e comunque vi ho messo i capitoli del video qui sotto per aiutarvi a orientarvi. Prima di continuare vi ricordo di supportare il video ma soprattutto di iscrivervi al canale perché nei prossimi giorni usciranno dei video esplosivi dei gameplay della stagione 16 registrati in anteprima mondiale. Nei quali tra le altre cose vedrete anche in azione i bilanciamenti di cui oggi possiamo solo parlare. Se avete dei dubbi, domande e curiosità sulla stagione 16 commentate qui sotto, cercherò di rispondere a tutti e buona visione. Ah e se siete interessati trovate il link di Twitch in descrizione, vado live tutti i giorni. Parliamo quindi dei bilanciamenti alle leggende della stagione 16, nel particolare saranno fortemente modificate almeno 7 leggende. Seer, Blowdown, The Wraith, Pathfinder, Horizon, Mirage e Lifeline. Attenzione, quelli di cui vi parlerò adesso sono i bilanciamenti principali, non escludo che quando usciranno le patch notes ce ne possano essere altri di minori. E ci tengo inoltre a ricordare, anche se ne ho già parlato nell'altro video ma facciamo un ribassino, che una delle novità principali di questa stagione saranno le classi delle leggende. Tutte le leggende del gioco verranno suddivise all'interno di 5 nuove classi. Tutte le classi avranno dei bonus speciali all'interno del gioco, per esempio le leggende di supporto tra le altre cose potranno craftare sempre all'interno del replicatore i banner dei compagni anche se questi sono scaduti. Per scoprire tutti i bonus mi dispiace ma un'altra volta vi rimando all'altro video che ho realizzato che trovate linkato nelle schede. Partiamo dai bilanciamenti subiti da Seer e Blowdown, due dei nostri ricognitori. Questi bilanciamenti sono volti a nerfare, a depotenziare il meta dello scan che è stato prepotente nelle ultime stagioni. Parlando di Seer nel particolare, la sua ultimate avrà un cooldown più lungo e durerà meno tempo, ma questa è veramente la cosa minore. L'abilità più depotenziata di tutto il kit di Seer sarà la passiva, che farà più rumore quando verrà utilizzata, ma soprattutto ti darà molte, molte meno informazioni. Per capirci non ti darà più un tracking in tempo reale dei nemici, ma la freccia gialla che compare quando miri pulserà, proprio tipo abbattito di cuore. Inoltre io provandolo ho avuto molta più difficoltà rispetto a prima a capire quando effettivamente avevo un nemico nel mirino. È difficile da spiegare, ma lo capirete giocandolo. Per Blowdown invece non abbiamo un vero e proprio nerf, ma più un rework, che potrebbe anche rivelarsi positivo, volto a togliere potere al suo scan, ma darglielo in un altro modo. Nonostante tutte le voci che stanno girando, la sua abilità tattica dovrebbe rimanere uguale a prima. Ciò che cambierà sarà la passiva, perché Blowdown riceverà una nuova abilità passiva. Camminando per la mappa come Blowdown potrai imbatterti in dei corvi bianchi. Interagendo con questi corvi bianchi, questi voleranno nella direzione del team nemico più vicino a te. Inoltre, quando utilizzerai l'abilità ultimate, non ci sarà più la meccanica di adesso per cui l'abilità tattica si ricaricherà più velocemente, ma invece comparirà in automatico un corvo bianco che ti porterà verso i nemici più vicini. Ma per il resto l'ultimate è uguale, cioè il fatto che tu vada più veloce, che tu veda in bianco e nero, con i nemici evidenziati di rosso, tutto uguale. E per i ricognitori dovrebbe essere tutto, purtroppo non ho potuto provare Blowdown di Battle Royale perché non andavano i server, ma la nuova meccanica mi ispira un casino e boh. Cioè, sinceramente mi sembra un potenziamento, discorso inverso per Seer che è stato semplicemente depotenziato. Anche se attenzione perché con la stagione 16 tutti i ricognitori attraverso il loro perk speciale saranno in grado di individuare tutti i nemici sulla mappa per 30 secondi interagendo con i trasmettitori, che è un perk secondo me migliore rispetto a quello che avevano fino a questa stagione di poter individuare la safe. Quindi sì, tra un nuovo perk e tutto il resto, Blowdown direi decisamente potenziato, Seer è da vedere. Ha perso da una parte, guadagnato dall'altra. Anche se probabilmente ha più perso che guadagnato. Ragazzi potenziati, sia Wraith che Pathfinder, entrambi buff semplici, molto simili tra di loro, ma secondo me entrambi devastanti. Il portale di Wraith coprirà, attenzione, il doppio della distanza e inoltre nel piazzarlo man mano che andrai avanti andrai sempre più veloce. Ragazzi, appunto, sembra una cosa semplice, ma provato è impressionante. Il doppio della distanza è tanto, cioè è veramente tanto, l'ho provato in poligono e non finiva mai. E per Pathfinder, praticamente copia e incolla. La zipline potrà essere piazzata molto più lontana. Ragazzi, molto più lontana, cioè tipo molto più di quello che vi aspettate. E inoltre si andrà più veloci sulle zipline. Ripeto, due buff semplici, ma che provati fanno veramente un'impressione incredibile. Non solo Pathfinder, tutti andranno più veloci sulle zipline. Capitolo passiva di Pathfinder, voi sapete che Pathfinder aveva la passiva che gli permetteva di ricaricare l'ultimate più velocemente quando utilizzava i trasmettitori. Piccolo problema, essendo che adesso sarà una leggenda skirmisher, non potrà più utilizzare i trasmettitori. E non so che dirvi raga, perché non ci hanno detto nulla riguardo a una nuova passiva di Pathfinder. Quindi la prima ipotesi è che se ne siano dimenticati e basta. La seconda ipotesi è che Pathfinder effettivamente avrà una nuova passiva, ma la scopriremo solamente con le patch notes che dovrebbero uscire il 13 febbraio. Nerf per Horizon, molto semplice, perché già l'abbiamo visto, perché l'avevano messo tra virgolette per sbaglio qualche settimana fa, poi sono tornati indietro. Insomma, è ufficiale, Horizon avrà più dispersione dei colpi sopra il lift, sopra l'abilità tattica. Sarà più difficile traccare i nemici nel mentre che sali sull'ascensore gravitazionale, ma di contro salirai un pelo più velocemente. Sincero cambierà poco, cioè oddio, cambia abbastanza, cioè si sente come nerf, ma cambierà poco nel senso che resterà meta, assolutamente, pesantemente. Sarà potenziato Mirage, attenzione perché è uno dei miei buff preferiti della stagione, perché è veramente figo. Praticamente dopo che avrai rianimato un compagno, tu e il compagno, quindi entrambi, sarete invisibili per un po' di tempo, circa 3 secondi. Attenzione però, perché se tirerete fuori le armi, tornerete visibili. Inoltre, i nemici bambusolati, quindi i nemici che colpiranno le tue esche, verranno indicati per un po' di tempo da un'icona che li tracca, che sarà visibile sia a te che ai tuoi compagni. Raga, Mirage secondo me era già la leggenda più sottovalutata del gioco, fortissima in tante situazioni, quindi qualsiasi buff prendi e porta a casa. Detto ciò, non credo che questo buff rendera Mirage particolarmente più valido a livello competitive o di team utility. Mirage è una leggenda forte for fun e resterà, penso, una leggenda forte, ma for fun. Lifeline, che in questa stagione perderà una passiva, perché se avete guardato l'altro video saprete che tutte le leggende di supporto potranno aprire gli scompartimenti extra delle capsule blu, che prima poteva aprire solo Lifeline. Però di contro ha subito dei potenziamenti, che neanche sono dei veri e propri potenziamenti, ma più dei cambiamenti quality of life, che per essere dei quality of life però sono abbastanza impattanti. Non verrai più rallentato quando rianimerai i tuoi compagni, che sembra una cosa da poco, però vi assicuro che si sente. E inoltre il drop, l'abilità ultimate, cadrà molto più velocemente. Molto più velocemente. E quindi, raga, questo è tutto. Ripeto, questi sono i bilanciamenti principali che ci hanno presentato. Potrebbero anche essere tutti i bilanciamenti della stagione, per quanto riguarda le leggende, ma non escludo che nelle patch notes che usciranno, penso, il giorno prima della stagione, quindi il 13 febbraio, ci possano essere cambiamenti, altri cambiamenti minori. Per esempio, appunto, una passiva per Pathfinder. Immaginatevi che meme se a pat lasciassero la stessa passiva, ma che si triggera quando apri i drop, invece che quando usi i trasmettitori. Ma anche per dire, sparo a random e non sto dicendo una cosa vera, cooldown dell'ultimate di Octane ridotta di 30 secondi, ecco. Non è un bilanciamento importante che cambia completamente la leggenda, di conseguenza non sta in questa lista e potrebbe finire direttamente nelle patch notes. Come promesso, piccolo capitolo su quest'intervista che il portale Dexerto.com ha fatto al Game Director di Apex Legends. L'essere più potente della Respawn. Vi lascio il link in descrizione se volete leggerla tutta, ci sono due punti in particolare su cui mi volevo soffermare. Poi ci sono tante dichiarazioni interessanti, tipo questa, per cui sperano che Apex possa durare per 20 anni. Oddio, se andiamo avanti così... Insomma, notizie più importanti. La conferma che in verità io già vi avevo dato nello scorso video che ci sarà una nuova leggenda per la stagione 17. Ma soprattutto la conferma per quanto riguarda la monetizzazione su Apex che non avremo mai più un evento collezione o brobrioso come quello dell'Alba Celestiale di qualche settimana fa, con premio finale, la skin reattiva, leggendaria, ricolorata, per il Peace Keeper. Perché? Perché i player si sono incazzati, quindi GG raga ce l'abbiamo fatta. E anche perché immagino che tipo nessuno l'abbia comprato. Ultimo punto dell'intervista, probabilmente il più interessante, la conferma dell'arrivo del Cross Progression. Attenzione perché ho visto un botto di hype negli ultimi giorni riguardo a questa dichiarazione e ragazzi, non ha detto niente di nuovo. Cioè il Cross Progression, la possibilità di trasferire i salvataggi tra varie piattaforme diverse, era già stato confermato dagli sviluppatori due anni fa. Sono passati due anni e non se ne è fatto nulla. Quindi il fatto che l'abbiano confermato nuovamente un'altra volta e un'altra volta però senza dare una data, non è che mi dia così tanta speranza sinceramente. È anche vero però che dalle parole che hanno usato questa volta sembra effettivamente che stia per arrivare, che l'abbiano praticamente concluso. Cioè ha letteralmente detto è stato più difficile di quello che ci aspettavamo e vogliamo essere sicuri che sia pronto. Cioè tu questo lo dici nel momento in cui l'hai finito e stai solamente ritoccando gli ultimi dettagli, in teoria, se ha detto la verità. Quindi non lo so, cioè io da queste parole, da come l'ha detto, capisco che il Cross Progression potrebbe arrivare a breve, magari stagione prossima, magari alla metà di questa stagione. Però ecco... E adesso rispondo molto velocemente a qualche domanda che mi avete fatto su Instagram per quanto riguarda la stagione 16. Visto che, hey, l'ho provata. I danni della nuova arma, domanda intelligente perché non ne ho parlato nell'altro video. Allora, fa 17 per ogni colpo, quindi 68 per ogni raffica completa, visto che ha raffica da 4, al corpo ovviamente. E quindi già che ci sono colgo la palla al balzo, vi aggiungo un paio di informazioni sul Nemesis di cui non ho parlato. Rinculo, molto facile da gestire. Molto facile e per molto facile intendo al livello di una carabina. Rincula praticamente solo in verticale e come se non bastasse ha un caricatore molto ampio. 20 colpi senza caricatore e arriva fino a 32 con caricatore viola. Secondo me la nuova arma romperà il gioco? Sì. Secondo me il Nemesis andrà nerfato o meglio verrà nerfato, non dico subito, ma molto presto e ho anche un paio di idee sul come. In particolare ritengo personalmente, no sense, che la barra d'energia che ti fa sparare più veloce si ricarichi anche quando non colpisci i nemici. Ecco, sarebbe un buon passo avanti far sì che si ricarichi solo quando li colpisci. Quale leggenda credi che sia più migliorata rispetto al suo stato precedente? Allora, Blowdowned, ma in verità Blowdowned, come ho detto, non l'ho potuto provare per bene, quindi è più una speranza perché mi ispira veramente tanto. E Wraith mi ha impressionato un casino, il portale di Wraith mi ha impressionato molto più della ziplane di Pat, veramente classe di perk più rotta secondo me. Allora, la peggiore skirmisher tutta la vita, più rotta probabilmente se la giocano i support e i ricognitori. Attenzione, ovviamente non parlo delle leggende che stanno dentro le classi, ma solamente dei perk delle classi. Megliore arma della season, Nemesis tutta la vita, ma attenzione anche agli shotgun. Questo perché oltre alle cose di cui abbiamo già parlato, quindi otturatore durato e calcio disponibile anche per Mastiff e Peacekeeper, hanno migliorato la registrazione dei colpi per gli shotgun quando sparì da vicino e si sente, sono parecchio più consistent. I badge e i contatori dell'arena che fine faranno? Resteranno? Cioè non li potrai più livellare ovviamente i contatori, però resterà tutto. E ora, ultimo capitolo del video raga riguardo al trailer gameplay della stagione 16 e alle conseguenti patch notes che sono uscite, che non sono ancora quelle complete, ma ci sono un po' di cose interessanti. Porco diaz! Quanto è alto il volume? Ma lo sentite sparato? Lo sentite buono? Prima vedrete una reaction al trailer completo, che tanto reaction non è perché il trailer già l'avevo visto quando ho provato la stagione, e poi un'analisi dei punti salienti. Eeeh, heheheh. Ah, ma si vedono subito, ok, i skin dell'evento collezione subito spoilerate a merda. L'ho abbassato troppo il volume. Figata, eeeh, cioè, è molto bello. Il trailer a livello di animazioni devono aver ingaggiato qualcuno di nuovo, eh. Devono aver ingaggiato qualcuno di nuovo a fare le animazioni perché è di un livello superiore, è molto, molto figo. Molto, molto figo. Per ora che stanno facendo vedere Deathmatch, ok, spoiler di Deathmatch, 6v6, Around, al meglio dei tre, di queste cose abbiamo già parlato. Quella è la skin del G7, penso, del Battle Pass, non ho visto bene. Mappe Party Crash, Rabitat 4, eeeh, cosa? Skin di Crypto del Battle Pass, che poi, le cose che fanno vedere qua, io l'ho già vista, ma mi dimentico che voi non l'avete vista, quindi, quella era la skin di Crypto del Battle Pass. Questi sono i bin speciali con gli accessori per le armi, per le leggende d'assalto. L'ho detto che questo trailer dura all'infinito. Ecco, questo è il perk degli Skirmisher, che vedi praticamente le armi dentro al drop. L'avete visto? Secondo me è veramente perk osceno. Il perk delle leggende di ricognizione, invece, che ti evidenziano i nemici con... con i trasmettitori, molto, molto figo. Leggende di supporto, crafting dei banner, più i bin azzurri, nuova arma Nemesis, vediamo se la fanno vedere. Purtroppo non si vedono i danni o altro, quindi non potete capire la potenza. Non potete... Non potete... Fidatevi, non capite, non è abbastanza. Non è abbastanza. Se hai vista la skin di Crypto, ci dovrebbe essere la skin di Valkyrie, poi, del Battle Pass, la skin del G7. Login Rewards, regalano Crypto per i nuovi giocatori, regalano Asha, cioè, per tutti, non per i nuovi giocatori, per chi non ce li ha. Evento collezione anniversario. Quindi skin abbinate tra di loro, dovremmo avere quattro... quattro gruppi di skin. No, in verità hanno visti tre, quindi probabilmente nove skill leggendarie per le leggende, più tre per le armi. Cimelio come premio finale. E basta, finito il... No, non è finito, non è finito. È finito. Molto fighe le transizioni a inizio e fine trailer, molto, molto fighe. Ricompense dell'evento anniversario! Ok. Gibraltar Pathfinder Lifeline. Poi Newcastle, Bangalore e Catalyst. Mi sembra Catalyst, questa sì, dovrebbe essere Catalyst. Octane, che non si è visto ma adesso torno indietro, Horizon e Ash. Fammi rivedere se riesco. Eccolo qua, Octane. È difficile beccare il ferro, mi immagini è preciso, eh? Grazie, Ciciretti. Queste skin quindi faranno parte dell'evento collezione dell'anniversario, che vi ricordo, acquistando per intero, vi farà sbloccare dei frammenti Cimelio. Praticamente il concept di questo evento è che hanno preso una skin esistente, in questo caso la skin di Gibraltar da DJ col cappello da pescatore, l'hanno ricolorata e hanno fatto due skin di altre, o meglio, hanno preso altre due leggende e hanno fatto delle skin abbinate. Skin di Crypto del Battle Pass, ci stava anche la skin del G7 prima, devo ritrovarla. Qua si vedono in azioni che la sperca, questi sarebbero i ricognitori che scannano i nemici. Dovrebbe essere per 30 secondi. Eccola qua, questa dovrebbe essere la skin del G7 del livello 1 del Battle Pass. Questa qua abbinata a Crypto. Eccola qua. Si vede poco, questa è la skin leggendaria del G7 del livello 1. Non si sono ancora viste la skin di Valkyrie e la skin del Mastiff, che è la skin finale del livello 100 e 110. Allora, perk delle leggende d'assalto, i bin speciali. Poi abbiamo il perk degli Skirmisher, la possibilità di vedere i drop, ma abbastanza useless. Abbiamo i ricognitori che appunto, molto simile alla zona di Crypto, scannano i nemici per tutta la mappa per 30 secondi. Leggende di controllo, di cui però non fanno vedere il perk, che sarebbe la possibilità di scannare la safe come prima potevano fare i ricognitori. Leggende di supporto, che hanno i bin blu speciali che contengono pure di alto livello, e possono craftare i banner dei compagni anche morti nel replicatore in qualsiasi momento. Nuova arma Nemesis, che si vede in azione, ma non rende assolutamente l'idea di quello che è, no? La sta pure usando male! Hanno aggiornato il sito, abbiamo, vabbè, la classificazione fatta per bene di tutte le classi, login rewards, che non ho detto prima, quindi loggando regaleranno Crypto più un pacchetto tematico e Ash più un pacchetto tematico. Quindi, ovviamente, se non le avete ancora, non sbloccate con i token Crypto e Ash, perché li regaleranno. Hanno confermato evento collezione dell'anniversario e ci sono tre eventi diversi. Quindi abbiamo un evento collezione più tre altri eventi collezione, che saranno quello col Cimelio di questa stagione, quello con la skin Cimelio per la leggenda, e un altro evento collezione ancora che potrebbe avere come premio finale, boh, perché skin per l'arma Simil Piskieper, come abbiamo appena avuto, hanno appena detto di no. Qualcuno parla di possibili recolor per vecchi Cimeli. Poi, vediamo, allora... Ok, hanno fatto vedere per bene la schermata di scelta delle leggende, che è modificata con tutta la nuova cosa delle classi, ed è molto, molto, molto carina. Molto, molto carina. Nuova schermata delle leggende, le classi nel dettaglio. Abbiamo, uh, nel dettaglio tutti i perk delle varie classi, che skipperò perché ne ho già parlato nel video, che ho fatto uscire il 6 febbraio, e non ci dovrebbe essere altro di nuovo, se non qualche informazione tipo questa, quindi costruire i banner dei compagni morti costa 30 materiali creazione. Sì, sì, le leggende in regalo sono come Octane, Valkyrie e Watson. Sì, basta loggare, te le regalano. Scorso anniversario ne hanno regalate tre di leggende, questo anniversario due. Si torna indietro, ma... ci sta. Ragazzi, grazie per la visione. Se avete altre domande da farmi sulla stagione 16 o volete anche solo stare in compagnia, vi aspetto su Twitch. Se il video vi è piaciuto, supportatelo, iscrivetevi al canale, perché tra pochi giorni vi dropperò dei contenuti bomba, gameplay esclusivi in anteprima mondiale su Team Deathmatch, e buona serata.